Lutto nel mondo della musica italiana ed internazionale, se ne è andato uno dei grandi, Pino Daniele, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 19 marzo. È stato strongardo da un infarto mentre si trovava nella sua villa in Maremma. Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, è raggiunto già cadavere nonostante tutti i tentativi di rianimazione. La vita di Pino Daniele era appesa a un filo e lo sapeva bene, ha detto il cardiologo del cantante Achille Gasbardoni. Tutto il mondo della musica si stringe alla famiglia del cantante, i cui funerali saranno celebrati mercoledì mattina a mezzogiorno al Santuario del Divino Amore a Roma.